Sull'alta velocità è necessaria un'azione eclatante. Il sindaco di Casella in Pittari, Giampiero Nuzzo, interviene dopo che il comitato di lotta ha evidenziato la celerità con cui sta procedendo il progetto relativamente all'alternativa 1, Battipaglia-Praia via Vallo di Diano. Nonostante infatti le buone intenzioni espresse anche dalla regione Campania, non c'è ancora nulla di scritto, nero su bianco, a favore dell'alternativa 2, anche solo in termini di interconnessione. Non è concepibile, ha detto Nuzzo, che un territorio venga mortificato a tal punto da non avere un'interlocuzione con chi ci può dare delle risposte. Ci può essere questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto verso le altre istituzioni? Per il primo cittadino di Casella si è rimasti infatti impantanati nelle logiche e logiche della politica e per questo si dice disponibile a un'azione forte, condivisa, che faccia sentire finalmente il peso del territorio fino ad ora del tutto assente. Il referente principale dovrebbe essere la regione Campania per poi arrivare all'incontro mai accordato al territorio con RFI e Ministero. Ne è convinto Mario Fortunato, il comitato 1987 di cui è membro. Basta controllare l'ordinanza numero 1 di RFI e la pagina 41 dello studio di fattibilità ha detto. In esse si evidenzia che l'approvazione del progetto avviene d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti e che l'approvazione è sostitutiva di ogni autorizzazione occorrente. Inoltre emerge che fermate interconnessioni saranno frutto di approfondimenti successivi dati dal confronto con gli enti interessati. L'intesa, detto dunque Mario Fortunato, risulta essere una condizio sine qua non per concludere l'atto finale. Il presidente De Luca avrebbe piena facoltà di sostenere l'interconnessione tra il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro. Un necessario atto di giustizia per evitare l'esclusione dalla linea veloce di quest'area che comprende il basso Cilento. Dunque la regione è la chiave di volta. Ma riusciranno i rappresentanti istituzionali del territorio ad essere convincenti? Saranno disposti tutti, come detto dal sindaco di Caselle, ad un'azione eclatante in grado di avere peso sulle decisioni e di ottenere un atto concreto per il Golfo di Policastro?